buongiorno a tutti buona giornata buona domenica dal sottoscritto nicola de lucia ben ritrovati con la deluxe television parliamo in questo primo video di oggi di atalanta roma la dea bergamasca sorprende la roma in rimonta per 2 a 1 non basta il vantaggio iniziale di geco al 45 del primo tempo ribaldano tutto nella ripresa palomino e pasale c'è successo dell'atalanta quotato a 1.65 1.77 1.80 1.74 in classifica molto importante l'atalanta rende diciamo solido il quarto posto a quota 45 punti anche perché la roma è dietro a 6 lunghezze a quota 39 reduce questa è stata la terza sconfitta di fila nelle ultime 5 partite invece per l'atalanta terzo successo nelle ultime cinque gare atalanta ricordo che sarà impegnata in champions league contro il valenza se non vado a rato ma per quanto riguarda il campionato l'atalanta il 23 febbraio giocherà contro il sassuolo che al momento occupa la dodicesima posizione con 29 punti mentre la roma proverà a cercare riscatto sempre il 23 febbraio contro il lecce sedicesimo a quota 25 punti e il reduce da tre vittorie di fila nelle ultime cinque partite bene chiudo ribadisco l'atalanta vince rimonte in casa contro la roma per 2 a 1 ciao a tutti